E' stato in carcere per 5 mesi per una rapina in gioielleria che avrebbe commesso un sosia. E' la vicenda giudiziaria che coinvolge il pregiudicato 46 anni di Bitonto, Vincenzo Mundo, scarcerato dopo essere stato scagionato dal vero autore del colpo incontrato per caso in cella e che ha deciso di confessare. La rapina nella gioielleria di San Nicandro risale al 1 marzo 2016, in tre due dei quali con il volto coperto entrano nel negozio armati con una pistola. Si fanno consegnare orologi, anelli con diamanti e collane in oro del valore di 20.000 euro, facendo poi perdere le proprie tracce. Il 2 settembre il 46enne viene arrestato in carcere a Bari, incontra per caso il 45enne Riccardo Corsini, detenuto per un'altra rapina. I due si somigliano al punto che gli altri detenuti li scambiano per gemelli. Nelle scorse settimane Corsini, colto da un forte rimorso di coscienza nel vedere un innocente padre di famiglia accusato di un reato che non ha commesso, decide di confessare.